Ennesimo caso di morte sul lavoro a Grotta Mare. La tragedia si è consumata ieri nel primo pomeriggio in via Guglielmo Marconi. Un pensionato di 76 anni, Aureliano Scartozzi, era intento a compiere dei lavori di carpenteria in un appartamento di sua proprietà, posizionato al secondo piano, e stava cercando di piazzare un piccolo ponteggio sul terrazzo, quando, con ogni probabilità, si è sbilanciato ed ha perso l'equilibrio. L'anziano è rovinato al suolo dopo un volo di 6 metri, battendo violentemente la testa sull'asfalto. I vicini che hanno assistito alla scena hanno lanciato l'allarme e chiamato il 118. Prontamente intervenuti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Anche la moglie, che lo stava aspettando a casa, preoccupata, si è affacciata alla finestra e ha visto il corpo del marito esanime a terra. Oltre ai carabinieri e ai tecnici dell'Asur, per gli accertamenti e le verifiche del caso, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il manufatto pericolante. L'ennesimo incidente sul lavoro che, ora, è al vaglio delle autorità competenti.